Amen. Gloria a Dio. Ci troviamo a Roma, nella zona di Termini, la stazione Termini. È da più di un'ora che stiamo predicando la gloriosa parola di Dio, il Vangelo di Gesù Cristo, senza alcun impedimento. Perché quando Dio è con noi, chi sarà contro di noi? E anche se ci fosse qualche impedimento, tutto copererà il bene. Perché anche se ci portassero in galera, perché predichiamo il Vangelo, siamo beati. E anche in galera, in carcere, in prigione, predicheremo la parola di Gesù Cristo. Perché se Dio permette che andiamo lì, non sarà un caso. Ma è da più di un'ora che siamo qui, fuori dalla stazione di Termini, a predicare il Vangelo. Perché solo il Vangelo è la speranza per il mondo. Amè. Il Vangelo di Gesù Cristo è la potenza di Dio. Alleluia. Qui in questo luogo passano anime di ogni razza e nazionalità. questo luogo multietnico. E' proprio qui il Signore ci ha mandato questa mattina a predicare. Perché Dio vuole che ogni razza, che ogni uomo, ogni essere umano, conosca la verità di Gesù Cristo. e vogliamo continuare a predicare. Qui vicino alla stazione Termini, gloria a Dio, in mezzo alla Babilonia, stiamo predicando la parola del vero Dio. Alleluia. Alleluia. E' una grande gioia e ringraziamo il Signore Dio che ci dà la forza di essere qui a Roma questa mattina per predicare il messaggio del Vangelo. Il messaggio di Gesù Cristo. Colui che disse io sono il pane della vita. Chi crede in me ha la vita eterna. Gesù Cristo è il salvatore del mondo. Gesù Cristo è la vera luce. Gesù Cristo è la speranza per questo mondo perduto. Credete in Gesù Cristo. Credete in Gesù Cristo. Gesù Cristo è il Signore. È il Messiaio, il Son di Dio. Credete in Dio. Aprete il tuo cuore al Signore di Gesù. Cari di Roma è una grande gioia essere qui per predicare il Vangelo. Il glorioso ed eterno Vangelo di Gesù Cristo. Il quale disse io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Perché la parola di Dio è chiara e dice che c'è un solo Dio e un solo Mediatore. Alleluia, Signore. Guidaci. Ancora, Spirito Santo. Ecco qua. Questo ci è il cuore del territorio. Vabbè? Gesù Cristo è la via. La verità è la vita. Come dice il Vangelo. l'unico che è morto sulla croce per redimerci dai nostri peccati. Alleluia. l'unico che prese su di sé la maledizione dei nostri peccati e li portò sulla croce. Sulla croce. Gesù Cristo ha distrutto i nostri peccati. Ha distrutto la morte. Credo in Lui. Gesù Cristo è la speranza. È la salvezza. È il re dei re. in Lui è la vita. È la vita e la luce degli uomini. Perché è scritto nel Vangelo nella parola di Dio che Dio ha tanto amato il mondo e ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in Lui non si perda ma abbia la vita eterna. lo dice la Bibbia. Chi crede nel nome di Gesù Cristo chi crede nel figlio di Dio ha la vita eterna. Ma chi non crede non vedrà la vita. Ma l'ira di Dio verrà su di Lui. La condanna del giudizio. perché la Bibbia dice perché la Bibbia dice che il salario del peccato è la morte. Il peccato porta la morte. Ma il dono di Dio lo dice il Vangelo il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. Alleluia Nostro Signore The gift of God is eternal life in Jesus Christ our Lord our Savior Believe in Him Repent of all your sins and believe in the gospel. Alleluia perché Gesù Cristo è l'unica salvezza che Dio ha mandato in questo mondo. Gesù Cristo è l'unico nome che è stato dato agli uomini nel quale possiamo essere salvati. In nessun altro è la salvezza dice la Bibbia perché Dio ha mandato il suo figlio per salvare i peccatori. E' il figlio di Dio Gesù Cristo di Nazareth il Messia morì sulla croce per noi per noi che eravamo peccatori per noi esseri umani che eravamo malvagi eravamo ribelli ma lui il figlio di Dio prese una corona di spine per noi i chiodi nelle mani i chiodi nei piedi per salvare noi che eravamo miserabili peccatori ma il figlio di Dio morì su quella croce alleluia alleluia Jesus che è il figlio di Dio che rende la croce per te credetelo in Dio alleluia convertitevi convertitevi città di Roma prima che venga la fine credetelo in Re e il figlio di Dio alleluia credeto nel nome di Gesù Gesù Cristo morì per te su quella croce perché non credi perché non lo segui perché sei ribelli ti stai perdendo nel buio del peccato ma credi credi nel nome di Gesù Cristo credi nel nome di Gesù Cristo e avrai la vita eterna avrai il perdono dei tuoi peccati sarai liberato sarai guarito dal Signore di Gesù Cristo di Gesù Cristo di Gesù Cristo